Winchun Consil qui sempre per voi ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento oggi voglio rispondere a un'esigenza di uno degli iscritti al canale per Tony che mi ha chiesto di avere a rallentatore tutta la forma del manichino di legno perché effettivamente a differenza dagli altri tutorial delle altre forme per il manichino di legno ho iniziato subito la spiegazione passo passo sezione dopo sezione senza mostrare la forma tutta di filato normalmente nelle altre forme faccio la forma veramente come deve essere fatta quindi diciamo con una certa energia una certa velocità insomma quello che invece Tony mi ha chiesto un rallenti per poterla seguire al meglio nella fase di apprendimento bene Tony spero che questo video ti faccia piacere grazie per essere iscritto al canale e supportarmi e mi raccomando likeate e spammate primo attacco non vai passo 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 attacco e porcino Kan Kwan, dall'altra parte, sempre ben piazzato i ginocchi e braccia, tok, uguardo dall'altra parte, bon, tak, kan Kwan, dall'altra parte, uguardo, attacco. Seconda sezione, back, 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 on the other, attacco, attacco la racco, io lo spingo, l'altra parte, terza sezione, fine al rallentatore delle prime tre sezioni, ora entriamo nella quarta, che è quella diciamo, una delle più tecniche, e continuo ad andare al rallentatore, spero che torni inutile, ecco, fatta in questo modo. Grazie. 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 Quinta. altra parte o più rallentatori di così toni non riescono spero vada bene, sesta, 1, 2, 3, bonsau, attacco sopra, passo da altra parte, giro, attacco sopra, uno, due, tre, bonsau, attacco sotto, ok fine del blocco centrale, passiamo alle quattro sezioni del blocco finale, eh? 7, 8, 9, 10. Settima, uno, due, tre, passo, boom, faccio il primo errore, l'errore dall'altra parte, controllo, boom, 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 spero di andare abbastanza al ralentatore, uno, due, tre, certi movimenti sono un casino ralentatore, uno, due, boom, 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 e voilà, ottobre, boom, 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 senza errore, boom, 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 all'altra parte, fine dell'ottava nona uno due tre quattro chiudono un po' un po' un po' un po' un'ondata anche due tre quattro non devo restare sul posto ma per andare all'alentatore non posso spingere troppo in avanti col piede ma non stare sul posto mentre dai calcio vai in avanti decima e ultima uno due tre quattro cinque parte la altra la altra uno due tre quattro un po' 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 e si parte de la altra e uno tre un po' 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 e ora Tony fine della forma arraimentatore spero che ti ritorni utile se hai domande e come te per tutti gli altri iscritti se avete domande su qualsiasi tipo di argomento fatele pure sotto nella chat oppure scrivete a unicunconsil chiocciolagmail.com così almeno avrò anche degli spunti nuovi per argomenti nuovi che possono interessare direttamente voi gli iscritti al mio canale quindi con questo è tutto un grosso abbraccio dalla parte di Angelo mi raccomando state in guardia e a presto e buon allenamento ciao ciao